Siete contenti? No, Melissa, qua non andare proprio. Andiamo prima nella piscina. 6 euro, io ho fatto 15 euro questa cosa. Vado a casa, 6 euro. La macattiamo. L'hai scudato pure la casa. La macattata è andata. È certo, è bello. Come è bello, babbo. Ti sta chiamando, è il babbo. Ti sta chiamando, babbo. O del figlio. No, è dopo lo compriamo. È dopo. Se no si bagna. È piccolino. È piccolino. C'è Rish? Non so compriamo il telefono. C'è Rish? Cristiano, ma lo posso portare a me roba con il pallone aereo? Quando ci siamo. È solo del figlio. È più solo del figlio. È vero? Andate in da piscina, voglio capire? E dovete andare nella piscina. Andiamo, via via. Guardate, grotti, l'anno scorso. C'è Rish? Ma chi ti ha fatto il foggiallo? Parla bene. Chi ti ha fatto il foggiallo? Il gabbiano che non è il cavallo. Ah, il gabbiano se ne è fiuto. Tigro, è la prima volta che li porto qua a Londra. L'altra volta siamo andati al Simon Park. Vedete? È bello. E questo è proprio per i bambini. Questo è per i grandi. Questo è per i bambini. Quello è là per i grandi andati. Il nonno, Rosy, Francesca e Mario. E noi siamo questi qua dei bambini. È vero? Tutti i bambini. Eh, solo i bambini vengono qua. Che poi anche io sono bambina. Perché pure io non vado nei scioli dei grandi. Quindi di nuovo mi diverterò anche io. Speriamo che i scioli sono abbastanza larghi in modo da che entro anche io. Va bene? Dove lo facciamo sapere. Guardate quattro. Le ombre, la ombre, la tua ombra. E guarda. È come io e padre. Dove vado delle ombre a mio? Guarda. Allora, ti credo che se volete vedere i miei figli, come si divertono, io pubblicherò i video nelle mie storie Instagram. Che sapete che mi bloccano i video. All'altro non c'è il blocco, ne ha messo. Va bene, non fa niente. Quindi se volete vedere andate nelle mie storie Instagram e vi pubblicherò tutti i loro divertimenti di questa giornata. Va bene? A dopo. Allora, ti credo che mi bloccano i miei figli, come 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 mi bloccano i miei figli. Grazie.